Sta avendo un grande successo in termini di vendite e di gradimento il libro fotografico Volti e personaggi della nostra città, una raccolta con oltre 350 ritratti di personaggi legati a Fano, immortalati da Paolo Delbianco e inseriti in questa pubblicazione, uscita a distanza di 25 anni da un analogo lavoro del fantasioso artista fanese, creatore delle arcinote, auto di pietra e affermato fotografo. 25 anni fa diedi alle stampe un volume chiamato Volti e personaggi della nostra città, si trattava di un volume con ritratti in bianco e nero, ritratti fotografici in bianco e nero eseguiti a persone che in qualche modo ruotavano nel mio studio oppure passanti della trafficatissima via Roma, personaggi che nei modi più svariati hanno contribuito a dare un volto a questa città. Il nuovo volume si accoda alle tante pubblicazioni proposte nel corso degli anni dallo studio del bianco, sempre attento a preservare tutto quanto inerente alla storia di Fano. Centinaia infatti sono i filmati amatoriali in superotto che raccontano il passato della città e che sono stati digitalizzati e messi a disposizione nell'archivio online studio del bianco, presente su Youtube, che ha superato 40 milioni di visualizzazioni. E ora il libro Volti e personaggi della nostra città 2021 che ci terrà compagnia in queste feste natalizie. Già mi chiedono quando sarà la prossima edizione, ma io mi auguro di non aspettare 25 anni perché il tempo stringe un po' per tutti, quindi spero tra qualche anno di rifarlo.